Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti su Recensito. Oggi ci rivolgiamo a chi è alla ricerca di un guantino perfetto per la città ma anche per i piccoli spostamenti, per lo scooter, per una moto sportiva, una naked, una moto a turismo, insomma davvero un guantino tutto fare. E allora ve lo presento è il modello DIFF che vedete qua davanti a me e il produttore è OJ, un marchio che già conosciamo. Abbiamo presentato la novità dell'anno poco tempo fa ovvero il profumatore da casco, oggi invece abbiamo un altro prodotto ovvero il DIFF. Ho riassunto intanto le caratteristiche principali e poi invece quello che a mio parere è interessante e da tenere d'occhio di questo prodotto. Ma partiamo con le caratteristiche tecniche, intanto lo sollevo a favore di Nicolò così lo può vedere. Questo è il modello in particolare che ho utilizzato, infatti vedete che gli altri hanno ancora le loro etichette, questo l'ho utilizzato diversi giorni, mi è molto piaciuto, apprezzato tantissimo, grande comfort, grande sensibilità e sta diventando uno dei miei guantini preferiti. Ne ho tanti poi alla fine quelli che poi utilizzo sono un po' sempre gli stessi. Dicevamo tessuto elastico, adesso ve lo faccio vedere, molto morbido, si attacca bene o male a qualsiasi mano. Io vedete ho una mano di questo tipo, è una L, quindi se dovete andare ad acquistare in questo caso vi do questo piccolo consiglio e un aiuto. L veste benissimo, dicevamo tessuto elastico, protezioni sulle nocche che sono annegate, non si vedono, quindi sono poco invasive anche a livello estetico. Palmo scamosciato sintetico, ben realizzato, anche questa cucitura che apparentemente potrebbe dare fastidio senza provarli, poi una volta indosso non si sente. Palmo scamosciato sintetico, inserti grip sulle dita e lo possiamo vedere qui, poi abbiamo anche il touch sul pollice e sull'indice. Però dicevamo, ecco le caratteristiche a mio parere più interessanti. Intanto è un prodotto certificato livello 1 KP. OJ da sempre ha lavorato sulla certificazione, quindi ha capi certificati, poi li vedremo ne ha tantissimi, non soltanto guanti. Molto comodi, quindi mi sono piaciuti perché hanno grande sensibilità ma hanno anche grande comfort, soprattutto anche nella parte alta, verso il palmo, nella parte più alta verso il polso. Sono molto comodi e supportano bene che di solito i guantini di questo tipo, così leggeri, peccano un po' in questo senso. Grafica mi è molto piaciuto, vediamo qua le quattro colorazioni. Questa qui è molto particolare, molto stravagante, però si abbina bene, vedete, con il rosso, con il verde, è un po' calidoscopica, però mi piace molto, davvero bravi. Qualcosa di diverso dal panorama. Grafica, l'abbiamo detto, e poi ok regolazione sul polso, perché come potete vedere ha una sorta di parte elastica, ma guardate il velcro è molto largo e in qualsiasi posizione, vedete, anche se uno per sbaglio e in tutta velocità lo allaccia velocemente, magari non perfettamente dritto, lui si chiude bene. Per quanto riguarda le taglie, allora dicevamo questa è una L, diciamo che potrebbe vestire come una M, e anche questo vi do un piccolo aiuto. Andiamo dalla XS alla 3XL, quindi copre davvero tutte le taglie possibili. Grafiche, lo abbiamo detto, sono quelle che vedete qua con me. Allora abbiamo, partiamo dall'arancione che si chiama orange, poi abbiamo la white e poi la squares. Quella che invece abbiamo provato per voi è la multi, multicolor, perché ovviamente lo potete vedere, è coloratissima. E infine il prezzo, 42,90€. Comunque è un prodotto certificato, grande comfort, li ho utilizzati molto e stanno resistendo molto bene, quindi vedrete che manterranno una buona qualità anche nel tempo e non faticheranno per l'usura dei vostri viaggi. Mi sono tenuto qua il catalogo, anzi ne ho tenuti due, per mostrarvi velocemente, mi metto a favore di camera. Quanti prodotti siano marchiati OJ? Abbiamo le scarpe, guanti, tuta antipioggia, di nuovo guanti, guanti sportivi, protezioni, jeans, arrivare alle giacche in pelle e giacche in tessuto. Un catalogo davvero molto ricco e per questo vi invito ad andare sul sito www.ojworld.it perché davvero c'è di tutto, non ci sono soltanto le schede tecniche, ci sono anche proprio le certificazioni dei prodotti, quindi riportate, non c'è soltanto scritto prodotto certificato ma c'è proprio la certificazione ufficiale, poi c'è il blog, c'è l'e-commerce, davvero un sito ben fatto, quindi andate a visitarlo. Lo vedete poi qui sotto, lo ripeto www.ojworld.it e poi come sempre il mio consiglio è quello di continuare a seguire i nostri canali social, quindi facebook, instagram di moto.it, il mio Maurizio Vettorpower, già in tanti lo fate, mi scrivete, mi chiedete consigli, anche ieri Luca mi ha chiesto un consiglio per un casco e una giacca, quindi è un piacere se mi iscrivete, io vi aspetto sempre qui, no beh, non sempre qui nella stanza di recensito, vado anche fuori, vado a provare i capi, ci rivediamo però qui alla prossima puntata, ciao!